Ancora una volta il Vangelo ci sorta a confrontarci con la figura di Giovanni Battista e ci invita a chiederci come possiamo incarnare le sue virtù nella nostra vita, in particolare la ferma convinzione di doversi convertire ogni giorno, sempre. La conversione, conibito a cambiare mentalità, presuppone un cambiamento radicale della nostra vita, un cambiamento che coinvolge il nostro modo di pensare e di agire, la nostra visione della storia, il nostro modo di considerare le cose che contano veramente a fronte di e di tante prospettive inutili e dannose che si presentano davanti alle nostre scelte. E tutto questo perché la proposta che ci fa il Vangelo è tremendamente seria. Di fronte ad essa ne va della riuscita o del fallimento della nostra esistenza. E' la proposta dell'amore stesso di Dio. E l'amore di Dio è serio perché suscita la nostra libertà e rischia fidandosi di essa. E' serio perché ci mette in guardia contro questo rischio. E' vero che essa dica di no, condannando se stessa alla rovina e al fallimento. E allora ci avvisa della dannazione irreparabile a cui andiamo incontro se ci ostiniamo nel rifiutare il lavoro. Che cosa ne abbiamo fatto del nostro battesimo? Che cosa ne stiamo facendo della nostra vita? Quale virtù di Giovanni ti piacerebbe acquisire e per quale motivo?